2014. Esce un video in cui un contadino vicino a Reggio Calabria dice di cercare una ragazza. Eh, ti capisco, amico. Questo video esplode e tutti per un anno hanno continuato a ripetere ossessivamente voi che facete ciao. L'altra notte stavo facendo le mie solite cose, quando di punto in bianco il dubbio mi ha salito. Che fine ha fatto? Enrico Pasquale praticò. Sappiamo tutti quanti benissimo di non avere poi così tanto bisogno di questa informazione. Ma ormai ho fatto intrippare il vostro cervello con questa domanda, quindi iniziamo. Enrico Pasquale praticò, letteralmente, il tormentone numero uno del 2014, che ha causato in tante delle risate e in quelli come me probabilmente qualche incubo. Il video che gli è scoppiato è questo qui, letteralmente una bio di Tinder versione cozzala, ma probabilmente molto più onesta del 90% delle esistenti. Io sono Enrico Pasquale Praticò, abbo da Motta San Giovanni, ho 22 anni, e sono un ragazzo carino, e quelli ragazzi che mi piacciono a me mi piacciono biondi, capelli neri, macri, bellissimi, sex. Che facete voi? Io sono a casa, lavoro, zappo, a vigna, sono un carino ragazzo. Trovate a me su ProZappo, Enrico Pasquale praticò, il mio numero lo do a Giovanni Zaccuri, e così mi trovate voi, e sopra a Facebook è Enrico Pasquale Praticò, con tutti. La mia vita sono qua, io mi cattavo per la session 3, ho il telefono Samsung Galaxy Grand Neo, e voi che facete? In nome di Dio! È un mix così spettacolare di cose folli, sgrammaticate, sbagliate, che se non fosse andato virale ci sarebbe stato veramente da preoccuparsi. Letteralmente pochissimo tempo dopo la condivisione di questo video, si iniziano a racimolare centinaia di migliaia di visualizzazioni, e la gente ride. Ad oggi i commenti dei più nostalgici sono ancora lì, c'è gente che torna sul re-upload di questo video manco fosse la mecca. Fin qui tutto divertente, ovviamente a un certo punto arriva l'immancabile intervista di Andrea Di Pre, perché se non ci avesse messo le mani lui probabilmente ci sarebbe stato anche qui da preoccuparsi, ma per un periodo Enrico Pasquale praticò carino ragazzo sex, sparisce completamente dai radar. Tornerà soltanto dopo un po' con un account, più o meno su qualsiasi social, con un'unica differenza. Incredibilmente a questo giro non è di pre quello che ha sfruttato di più questo sempliciotto, deve essere un record o qualcosa di simile. Infatti Enrico torna con grande entusiasmo sui social, cominciando a spammare video, foto e story Instagram, su quello che è letteralmente il suo content, la chiacchiera da bar, niente di che. Non vorrei che fraintendeste, però, dubito che qualcuno segua Enrico Pasquale praticò per sentir parlare di fisica quantistica. E immagino che qualsiasi persona sensata non pretenda qualcosa del genere da quest'uomo, anche se in realtà il web è pieno zeppo di frustrati. E lui per questa gente è preda facile. Basta andare nei commenti di un qualsiasi suo post per trovare gente che sfoga le proprie turbe su di lui, in modo più o meno pesante. Il punto è che non è quel tipo di gente che fa così con tutti quanti, fa così soltanto con chi se lo può permettere, ovvero con chi è più debole e probabilmente più facilmente attaccabile di tanti altri. Infatti comincia a spuntare qualche storia Instagram di Enrico Pasquale praticò, nella quale in maniera molto sgrammaticata e con il dito medio, riassume ermeticamente il messaggio che ve ne dovete andare a fanguro. Interrogato poi su questa cosa, rivelerà che questo è stato più che altro un consiglio del suo manager, e che si scusa con chi è rimasto offeso. Ora, a parte il fatto che probabilmente se io facesse una cosa del genere, il mio, di manager, farebbe il brodo con me, e farebbe anche bene, ma qui c'è un enorme red flag. Il fatto che Enrico Pasquale praticò non sia effettivamente ed evidentemente in grado di gestire un account social, sapendo discernere ciò che è bene e ciò che è male. Ma non soltanto per l'account, probabilmente in generale. Nel suo profilo Instagram ora c'è scritto solo questo, ma diverso tempo fa, e qui mi servirò del video, di Alici come prima dovrebbero farlo santo sto ragazzo perché ha documentato in tempo in tempo quello che stava succedendo quattro anni fa. E sia chiaro, io pensavo di essermela immaginata questa cosa mentre scrivevo questo video. Meno male che lui ha documentato tutto quanto. Comunque sia, compariva scritto, per booking, serate, info e quant'altro, contattare il manager a questa mail. Stessa cosa successa con un sacco di altri fenomeni trash o simili. Gli scoppia un video, qualche furbetto li mette sotto la propria ala per mangiucchiarci sopra, e in realtà quello che dovrebbe fare un manager è sviluppare l'account e cercare di fare tutte quelle scelte che da solo il creator probabilmente farebbe o in più tempo o magari sbagliando di più. Invece quello che è successo questa volta è veramente tanto, tanto brutto. Però prima di tutto io avrei un dubbio. Vorrei che qui sotto nei commenti mi diceste il tipo di serata al quale dovrebbe essere invitato in Ricopa Scuole Pratico e quale tipo di serata dovrebbe gestire. Perché penso che la mia fobia per le discoteche si è aumentata esponenzialmente dopo aver sentito una cosa del genere. Ma nel video di Alice come prima si nota anche un qualcosa molto sospetto per quanto riguarda alcuni post e alcune storie di Enrico. Chiariamoci, stiamo parlando di una persona che effettivamente, presumo, non sappia benissimo che cosa c'è dietro nel mondo dei social. E soprattutto qual è il valore economico di una storia in Instagram o di un post di un account che supera un certo tot di follower. Io lo vedo con il mio account quando per esempio, non so, sono in giro fuori a mangiare qualcosa, taggo un mio amico o dei miei amici all'interno di storie Instagram e c'è sempre la battuta sul fatto che da lì a 5 minuti saranno letteralmente invasi di persone che non conoscono. Queste cose le aziende le pagano anche profonatamente perché sono cose che valgono, sono cose che giustamente possono trasformare tutta quella serie di persone in potenziali clienti. E anche se si trattasse di far spendere 5 euro a testa a toh, 3.000 persone, nel mio caso c'è un account da quasi 20.000 su Instagram, si sta parlando di 3.000 euro per una storia in Instagram che l'azienda guadagna, quindi non stiamo parlando di bruscolini. Ma Enrico tagga compulsivamente il proprio manager, evidentemente sotto pressione dello stesso, per fargli mettere like alle foto e per dire di andarlo a seguire. La cosa più evidente è che il manager di Enrico stesse sfruttando l'immagine dello stesso, in questa maniera un po' squallida, per riuscire ad aumentare i propri numeri. Ma poi che numeri sono? E quando a Pratico veniva chiesta questa cosa, lui rispondeva in questo modo. Non mi usa a me, avete capito voi? E basta, raga. Il mio manager non mi usa. E basta. Ciao. Se così non bastasse, evidentemente uno dei contenuti che tirava di più su questo account erano i video e le storie in cui Enrico inveiva contro la gente, minacciava la gente, faceva roba, si incazzava. Questa roba faceva ridere tutta la plebaglia e insomma... Kimus, bastardo, figlio di but***a, e basta. Più lo vedevano incazzato come una iena per motivi presumibilmente randomici e più la gente faceva finta o non finta comunque di ridere, il fatto è che non ridevano con lui, ridevano di lui. E soprattutto vedere Pratico incazzato in questa maniera non è assolutamente credibile, è un po' come vedere 300 però con l'audio di Spongebob. Non so, è qualcosa di un po' strano, però se Spongebob lo mettete con in sottofondo la Dark Polo Gang va sempre a tempo, non chiedete come so questa cosa. Cercando di fargli partire un altro tormentone sul quale mangiucchiare, immagino che il manager abbia cominciato a convincerlo a ripetere questa catchphrase alla fine delle sue minacce. Non so dire in particolare che cosa mi destabilizzi, di più. Alici come prima tra l'altro ha contattato anche il manager di Pratico ai tempi, e parliamo di 4 anni fa, per sapere quali fossero i prezzi per le serate. 900 euro, esclusi biglietti, vitto e alloggio. Chiede anche se c'è la scorta, perché Napoli è particolare. Adesso a parte gli stereotipi che probabilmente arrivano da qualcuno che ha preso troppo sul serio diversi meme. È assurdo stupirsi del fatto che qualcuno possa venire preso di mira fisicamente quando si vedeva chiaro e tondo che Pratico fosse stimolato ad aizzare gente come non mai tutti i giorni. Se già gente normalissima viene presa di mira semplicemente perché esiste, figuriamoci che cosa può succedere se qualcuno di così attaccabile comincia anche a fingere di essere un gangster e di voler menare qualcuno. La scorta. Ma siamo seri. Se ad oggi invece torniamo sul suo account Instagram, questo riferimento al manager non c'è più. E l'ultimo post risale al 2018. E penso anche che Pratico possa concorrere per il primato di storie Instagram in evidenza. Sono esageratamente tante. Tra l'altro oggi è moderatamente memato su TikTok. Ha un account nel quale posta i suoi video, fa effettivamente i cazzi suoi e quelli che sono rimasti a seguirlo lo seguono così in maniera tranquillona. Ad oggi ha circa 30 anni, però posso essere sincero ragazzi, in questi ultimi mesi sono stato tempestato di richieste assurde su questa persona. Una bella fetta di gente mi ha chiesto quasi disperata di parlare delle opinioni di Pratico sulle cose e di risponderti per le rime. Ma a me i folli ragazzi sembrate tanto voi che mi avete fatto queste richieste. Io personalmente non perderei mai, con tutto il rispetto ovviamente, un secondo del mio tempo per stare a discutere sulle opinioni di una persona che letteralmente si mostra sempre in pigiama, non sa scrivere o parlare in un italiano corretto e che con tutta probabilità è semplicemente un sempliciotto di periferia. Non ho neanche voluto indagare su che cosa dica o non dica perché sinceramente il mio interesse per la cosa è così basso che mi sembra davvero una grandissima perdita di tempo e ci sono sicuramente cose di questa storia, come abbiamo visto oggi, molto più interessanti. Io non vado nel bar del mio paesino a discutere con i cozzali di che cosa pensano delle donne, dei gay, dei diritti di queste cose qui perché semplicemente una conversazione del genere, nel migliore dei casi, finisce con una bottiglia rotta dal collo della bottiglia. Non mi sembra ovviamente questo qui, quello di Pratico il caso, sia chiaro, però ci siamo capiti. Quello che io chiedo a voi, invece, è proprio questo. Per quale cazzo di motivo andate a parlare di certe cose da Pratico? Perché andate a cercare dei discorsi accademici sugli account di Pratico? Io non capisco davvero certi comportamenti. Alla gente piace tantissimo andare in posti che hanno un certo contesto, coscienti del fatto che c'è quel certo contesto, a lamentarsi che non c'è un altro contesto. A me sembra una cosa completamente folle, ma fate voi. Questa comunque è la fine che, otto anni dopo, Enrico Pasquale Pratico ha fatto. Posso dire la verità, con tutto che un soggetto molto particolare è una fine migliore di quella che hanno fatto tanti altri. È solo brutto vedere che c'è tanta gente pronta ad approfittarsi di lui, probabilmente tanti di voi nemmeno sapevano questa cosa. Però purtroppo, ragazzi, nel mio settore, storie di questo calibro sono all'ordine del giorno. Fatemi sapere ovviamente se sapevate già di questa storia. Io torno a farmi le pippe mentali sul prossimo. Grazie a tutti e buoni incubi. Grazie a tutti.